Ok, il video non solo non funziona Sì, ma quello lì era diventare il centro Se tu fai così, questa momentà qua, no, c'è anche la macchina fotografica dietro Ma qua è una zona in cui si vedrà, quando scaricheremo il video, la faccia tagliata a me Quindi io faccio sempre così E poi sono naturale, non è che lo guardo ogni due minuti Sì, no, vedi Sì, come se fosse qualcuno che te lo sto facendo Però se la videocamera ti guarda a te meglio perché Se no, dove le due videocamere si toccano La qualità non è sempre delle misure Ok Ma questi giochini tu hai Poi più la tieni sollevata in alto e più frete il giorno Quando poi la posizioniamo il video Sì, mi ricorda quando in classe ti diceva C'è qualche dubbio? Sì, io 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 Con dubbio Devo dire che mi fa un po' male il braccio già Allora